Per non perderti nessun contenuto su questo canale ti invito a premere la campanella per ricevere ogni giorno i feed e a passare da Instagram per contenuti sempre esclusivi. Buona visione! Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo ottavo episodio dell'Extreme Crazy Rock a Pokémon Bianco 2. Ragazzi, nello scorso episodio sono successe due cose fondamentali. Abbiamo evoluto il nostro Mankey in un Maitina, peggiorando notevolmente il Pokémon, grazie Gesù, e ovviamente non si potrà più evolvere, quindi questo Pokémon è praticamente da scartare. Probabilmente ci vorranno tre episodi, ma questi sono altri discorsi. Cosa ancora più importante però ragazzi, abbiamo ottenuto il Pokémon di Trainer Tia, ossia Entei ragazzi, quindi un Entei, che niente ragazzi, a livello 29 l'ho allenato, queste sono le sue statistiche, nonché il suo parco mosse. Detto ciò, direi che possiamo proseguire. Prima di iniziare, oltre a invitarvi a lasciare un bel mi piace e un commento qui sotto rispondendo alla DDG, mi raccomando ragazzi, sostenetela, sostenetela questa serie, perché stiamo andando bene in questo periodo, soprattutto, è importante che mostriate, grazie voce, che mostriate il vostro sostegno. Quindi ragazzi, mi raccomando, non mancate. Detto ciò, proviamo a raggiungere almeno 200 like per questo episodio. Ho registrato questo video, sto registrando questo video con il Blue Yeti, con il filtro antipop, e utilizzando un joystick per giocare, visto che voglio un po' sperimentare dei metodi nuovi. Spero che tutto vada per il verso giusto, nel caso fatemi sapere nei commenti. Ragazzi, prima di continuare, volevo farvi sapere una cosa molto importante. Prima di iniziare a giocare questa ROM, ho settato la possibilità, per i Pokémon che si evolvevano a dei livelli, diciamo, un po' alti, di diminuire, per l'appunto, il livello al quale si sarebbero evoluti. Questo mi ha portato, durante l'allenamento, a rischiare di evolvere Primplap. Perché sì, portandolo a livello 30, il nostro carissimo John Frog si voleva evolvere. Quindi ragazzi, l'ho portato quasi a livello 31, in modo tale, comunque, che dopo questa battaglia con i Capimetro, potremo andare a vedere, signori, la fase finale, si spera almeno, di John Frog. Cioè, io veramente, ragazzi, ho paura di vedere che cosa potrebbe diventarci. Caputo e Gurdur, intanto, sì, nel caso non ve ne foste accorti, stiamo affrontando i Capimetro. Comunque, perfetto, vai così. John Frog, non mi deludere. Allora, forza antica su questo Gurdur, vediamo di mandarlo a casa. Ah, 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 ahissimo, ahissimo, mi hai fatto un male boy. Allora, vedi di morire, caro Caputo, perfetto. Allora, Caputo è a casa. Non saliamo di... John, John, John Frog. John Frog, non mi far cominciare questo episodio con le bestemmie, no, ti prego, davvero. Sarebbe veramente orribile. Oh, bravo, bravo, così ti voglio. Tra l'altro, ragazzi, adesso che me l'avete fatto... Cioè, che mi è venuto in mente, ho fatto un paio di associazioni di idee. Tranquilli che prima della fine della serie l'italiano lo imparo. Ho fatto un paio di associazioni di idee. Adesso diamo uno strumento molto particolare a Manky, che mi avete consigliato nei commenti. Ma prima, mi stavo quasi dimenticando. John Frog, ti prego, dacci la tua forma finale. O almeno mostraci il cammino. Dacci un indizio, un segno, qualcosa. Ti prego! Un... Un seg... Questo, ragazzi, ci dice un'unica cosa. Che non siamo ancora pronti. Che il percorso che John Frog sta asserbando alla nostra serie è ancora in fase di sviluppo. Che non siamo forse ancora degni, che ci manca ancora qualcosa interiormente. O forse che abbiamo una dose monumentale, cataclismatica, di sfiga. Che ci impedisce di avere dei Pokémon decenti con le evoluzioni. Perché per ora io ho fatto tre evoluzioni. Ho ottenuto un Primplap. Che si è evoluto in Manky? P, ma chi P finisce con la P, non è che la P diventa una H, una H muta diventa una P. Compriamo delle superpozioni perché andiamo a affrontare la palestra. E poi io ho ottenuto un Maitina con l'attacco di un sasso. L'attacco di un sasso. Un sassolino tipo quelli della ghiaia, dei viali, no? Quelli, quelli. Che lo tiri addosso ad una persona e gli ridai 50 PS. Per intenderci. Io prego che in questa serie possa avere un pochino più di culo. Comunque ragazzi, mi avete fatto giustamente notare più volte nei commenti. Chiedo venia se a volte non eseguo subito, ecco. Però diciamo che sto pre-registrando questi video. Mi avete consigliato di dare il Mirino a Manky. In modo tale che Pietrataglio possa fare molti più critical. Rendendo la bossa a Pietrataglio ancora più OP. Almeno in potenza. Poi non si sa mai perché abbiamo capito che Manky è diventato una pippa. Detto ciò ragazzi, io pensavo di andare ad affrontare per primissima cosa la palestra. Quindi ragazzi, tra l'altro è vero che la palestra a sto giro è qua, se non ricordo male. Qua? Perché? Cos'è successo? Vuoi sfidarmi? In realtà vorrei Camellia. Aspetta. Ma dove cazzo è Camellia, raga? Mi dimentico i giochi. Non è qui. Dov'è? Ah! Eeeh... Chi cazzo si ricordava che dovevo fare sta cosa? Ok, perfetto ragazzi, dobbiamo andare a cercare Camellia. Perfetto, questa è la vecchia palestra in sostanza. Ok, bella lì, così almeno non potremo fare la palestra in questo episodio. Grazie vita. Oddio, forse ce la facciamo, però non lo so. Oh, qua mi sa che... Corri a prenderla, corri a prenderla, corri a prenderla. Ora, io lo sapevo, lo sapevo che andava a finire così. Ora, non so se qui ci sono degli allenatori. Raga, questo qua sembra un green screen fatto col culo. Non vorrei farvelo notare, però purtroppo ormai... Tu mi sa che sei un'allenatrice, no? Io... Oh no, che figo! Dici qualcosa di utile? No, perfetto, possiamo proseguire. Allora dai, fatemi venire qua una bellissima autovettura, grazie. Dai, forza. La rivoluzione industriale, sono carico. Grazie per... Ma basta che ti levi dal... No, ma tua madre... Tua madre ha pendi abiti. San Flora! San Flora, livello 25, un San Flora. Ma di cosa stiamo parlando? Tra l'altro sì, li ho allenati particolarmente i Pokémon. Spero che... Cioè, spero di non aver esagerato obiettivamente. Però ragazzi, vedendo comunque i livelli che aveva Artemisio... Mi sono un po' cagato addosso. Penso che sia comprensibile come cosa. Perfetto, adesso posso gentilmente avere il mio vagone. Madonna, ma troppo buoni in questa serie. Ma... Ok, sì, perfetto. Non è più... Cioè, adesso mi sa che io ricordo cosa succede, no? Cioè, praticamente, allora adesso mi dicono... Guarda che Camellia è andata via, devi tornare indietro. Se non sbaglio è questo che mi dicono... Ti odio a sangue. Allora, ragazzi, questa qua era la scorsa palestra di Pokémon nero e bianco. Che, sinceramente, era molto più figa della schifezza che andremo a fare quest'oggi. Che è praticamente una sfilata di moda. No! Signorina dei fiori, la prego, si levi dalle balle. Io vorrei... Io vorrei... Sbrigarmi per andare da Camellia. Tra l'altro devo levare Mudkip, raga, perché altrimenti mi schiatta. Pan pur, ok, perfetto. Io... No, non si sa mai, raga. Switchiamo, ragazzi. Testiamo il nostro Entai. Testiamo il nostro Entai, che ancora non l'abbiamo provato. Vai, Entai, è il tuo momento. Tra l'altro Mudkip, non l'ho visto, raga. Non l'ho ancora visto. Sono impazzito. Ok, perfetto. Allora, Entai. È il tuo momento. Non mi deludere. Un'intera serie di Pokémon diamante e perle a idolatrarti. E a dimenticare l'uso della lingua di Dante, di Petrarca, di Boccaccio, di Leopardi, di Luca Giurato. Mi sto facendo mettere sotto da una scimmia. Mi sto facendo mettere sotto da una scimmia. Uccidilo. C'ha le difese di un cazzo di carro armato di Hitler, questo coso? No, perché non riesco a buttarlo giù. Pugno d'ombra non ha priority, se non ricordo male. No, quella è furtivo ombra. Conoscenze tecniche di Creepy Stories sono comunque ludevoli. Basta che ti levi dal lale. Sali, sali. Ok, perfetto. Veloceziamo sta cosa che è insopportabile. Olè, grazie. Adesso, se non sbaglio, parlando con sta qua ti dice, stronzo, se n'è andata. Per l'appunto. Tutto ciò per un antiparalisi. Che potevo comprarlo al Pokémon Market vendendo un biglietto di Trenord. Fantastico. Fantastico. Bellissimo. Bellissimo. Comunque ragazzi, fuori parte, vedrò di affrontare un po' di allenatori in giro per Scirocopoli. Sapete, c'è quella tipa lì della ruota che è panoramica. Ci sono quelli degli stadi, quelli del campo da tennis. Triplo set su ogni cosa. Siamo tennis alla moda. E probabilmente ci troveremo anche Tony F per l'appunto. E dopo questa stronzata qua potete linciarmi. Sta di fatto che queste cose qua ovviamente le farò fuori parte. Perché è comunque una Nazlock. Non possiamo soffermarci su certe sciccherie, insomma. Non so neanche se esista questa parola in italiano. Sta di fatto che adesso ci lanciamo letteralmente in quella che è la palestra peggiore di questa regione. Ossia una sfilata di moda. Una palestra che penso che abbia fatto piacere a un ventesimo dei fan Pokémon. Che erano quelli fissati con la moda. Che poi potrebbero farla anche bene, no? Concettualmente la palestra con la moda è bella. Solo che si sviluppano in questo modo. Cammini ti stuprano. Se vinci vai avanti. Altrimenti ti stuprano. Visti i Pokémon che mandano in campo, a livello Cristo 28 è molto più probabile che ti stuprino. Detto ciò, leggendario contro leggendario. Abbiamo scelta? Direi di no. Non mi fare troppo male per piacere. Sdoppia torre. Come non detto, non dovevo neanche dirlo. Devo evitare io ragazzi di spaccare letteralmente le cose. Perché altrimenti è un fottio. Spero ragazzi che non ci siano problemi con il microfono. Perché io lo sto provando in questi giorni. E potrei avere delle difficoltà nel... Diciamo... Nella dimestichezza ecco con questi strumenti. John Frog vai e adesso ritorna così almeno ti evolvi. Ti prego non mi far soffrire Johnny. Non mi far soffrire raga. È diventato... Ormai lo chiamo Johnny perché io e lui ormai siamo amici d'infanzia. Frago il tempo. Aia. Mi hai tolto letteralmente un pelo pubblico. Mi ha tolto un pelo pubblico. Interessante. Abbattimento. Aia. Nota bene. Non insultare i galleid che ti tolgono i peli pubblici. Perché poi potrebbero letteralmente staccarti lo scroto. Detto ciò. John Frog. Spero che con queste battaglie io sia diventato degno della tua forma finale. Voglio essere degno di te. Concedimi la massima aspirazione della vita. La forma finale di John Frog è un gigalit. La dilusione. La dilusione. Però. Però. Ancora non sappiamo. sotto quali statistiche ha riposto John Frog in questo Pokémon. Tipo acciaio. Già voglio bestemmiare. Vabbè. Ho visto di peggio. Ho visto anche di meglio. Richiedo l'eutanasia adesso. La forma finale di John Frog è un gigalit. la delusione che sento da ogni angolo d'Italia è altissima. Detto ciò. Facciamo una bella cosa. No. Non questa. Ok. Perfetto. Proseguiamo. Dopo questa delusione non dobbiamo scoraggiarci ragazzi. Perché non si sa mai che questa sia un'ulteriore prova che merda ci ha posto sul cammino per testare le nostre qualità di profeta. Rafflet. Rafflet. Anche Rafflet potrebbe essere in sé una piccola prova. Se non fosse che con Drago Spiro questo ragazzino qua lo perdiamo e invece no perché lui mi fa geloraggio e mi fa praticamente lo stesso danno che gli ho fatto io pugno d'ombra per piacere. Vediamo di sistemare le cose. Cazzo ma cosa che effetto sonoro è? Ma stiamo giocando a guerre stellari. Ma cos'è? Più 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 sembra un fucile di Star Trek sembra non ho mai visto Star Trek non so se ci sono fucili mi è venuto in mente quello perché c'entrano le cose belle laser aiuto non lo so uccidetemi non ha effetto di tipo norma Entai Entai Allora so che non è questo il tuo luogo prediletto datemi un buon motivo per non bestemmiare la Madonna Datemi un buon motivo per non bestemmiare la Cristo di Madonna Avevo questo si chiama Forest questo si chiama Forest Depilati se sei una foresta Depilati per piacere Che cazzo di voce è? Ma è la Laura Pausini del mondo Pokémon Ma Cristo Dio Cos'è sta roba? Allora L'unico Pokémon leggendario che ho ottenuto dall'inizio della serie mi è morto per un vent argenteo di un Bulbasaur con un Crit Consoliamoci uccidendo le renne Ho detto consoliamoci uccidendo le renne e non riusciamo ad ucciderle le renne No words No words I have no paroles Ma di cosa stiamo parlando? Ma come dove siamo? Mi brucia Le renne mi bruciano Le renne usano erba patto non mi fanno niente sarà anche meglio Mega assorbimento vedi di morire Vedi zio di morire ma male anche ma male anche ok perfetto bravo Johnny Allora sicuramente è meglio di Primplap è che non lo so dai Johnny io comunque credo in te so che tu sei qui per aiutarmi io devo devo essere come non devo essere come Sant'Omaso azione super efficace mi mancava non devo essere come Sant'Omaso io devo 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 essere credente devo credere anche se non vedo anche se non vedo le statistiche sparatemi troia si è inutile che fai la figa rimani una bella baldracca e parliamone allora prima di affrontare Camellia che ho come l'impressione che ci letteralmente pulirà il culo dalle scorie del parto proviamo un attimo a curarci i pokemon a vedere la situazione come potrebbe evolversi spero in maniera positiva se no altrimenti potrei lanciarmi da vari posti e da varie alture detto ciò Camellia cara mia ti do il benvenuto su questo palco ora potremo giudicare quali pokemon sono i più brillanti guardi io avevo un entei però sai com'è me l'ha ucciso un bulbasaur perde la sfida di thomas transessuale transessuale non riesco più neanche a parlare e non sei un cicl no tu no tu no tu no vai via no vai via vai via vai via perché non sei randomizzato vai via vai via ti prego vai via ti prego no levati raga questo è l'incubo di ogni giocatore di quinta gen cazzo di emolga è un incubo allora fermi chi è che ha tante difese eh johnny 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 forse ci sei giunto proprio per questo johnny non mi tradire john frog non mi guarda io non ci voglio non ci voglio credere mi sembra di giocare a un cazzo di scherzo è una candy in camera o cosa muori no non gli ho fatto niente io non ci voglio credere raga non posso fisicamente credere a quello che sto vedendo non posso fisicamente credere a quello che sto vedendo non mi paralizzare ok almeno tu pietra taglio prego in un crit la mossa più potente che io abbia mai visto adesso mi servì ti prego oh oh ok ok ti prego non mi trollare con dei pokemon fortissimi elghiem ok ok elghiem è fattibile a che livello è livello 29 ok calma curiamoci i menchi curiamoci i menchi io raga sto veramente infartando male sto sentendo avete presente il quale cazzo sgomento è fortissima mi sa no ok non troppo allora mi tengo un attimo con i due pietra taglio perché mi sembra che questo elghiem sia trattabile respira respira creepy respira creepy respira creepy respira 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 va tutto bene tutto un bruttissimo sogno è un bruttissimo sogno ok giochiamoci pietra taglio adesso geloscheggia guarda che io veramente potrei io sono ho un ho un condizionatore non ho paura di usarlo ok fammi fammi un piacere uccidilo era pure critical buono così geloscheggia se criti zio io chiudo il canale ok buttalo giù ok allora gliene manca uno raga gliene manca uno ok ora non so non penso anzi valga la pena di provare a mettere dentro un po guarda che livello altissimo guarda che livello altissimo io sono il resto è colpa mia che ho aumentato i livelli sono un deficiente livello 32 io non ci credo raga veramente l'ho alzata no anticura l'effetto di anticura non può durare troppo no no dai muro di no no tutto tutto guarda guarda ti do il culo ma muro di fumo no davvero buttalo giù sapete cosa sarebbe figo raga che me ne andasse bene una adesso divento un gigante che manco Eren reggi ok ma tolto un PS cioè mi stai è di tipo è di tipo buio raga mi prego aiutatemi ok posso nuovamente curarmi allora men che io voglio credere in te allora questo qua potrebbe avere solo fossa se mi toglie due PS a turno ho vinto però deve effettivamente togliermi due PS a turno ok fermi ora che posso curarmi vediamo di fare le cose bene allora con Ostropoli ha allora John Frog dovresti avercela una mossa di tipo lotta se non dovrebbe avere raga in teoria forza antica se non ricordo male eh adesso sarei giocata l'anticura però merda ma è Menky che non può curarsi ma io posso curarne altri mi sa scopriamo subito bella bella è il prossimo posto raga perfetto e continua a fare fossa brutto scemo allora fermi teniamo un attimo Menky così almeno risolviamo un problema nel senso che non rischio di perdere un pokemon con lo switch a parte che sta fossa qua mi sa che non mi toglie niente però dettagli raga crystal colpo ti prego ok non gli ho fatto niente adesso switch mando John Frog e con John Frog punto a eliminarlo con forza antica forza ok va bene io ho forza antica cazzo attacco per primo non mi shottare ok un ps un ps John Frog non mi tradire si no cosa ha fatto no cos'è cosa è successo la banca cedro anticura ok fa niente dovresti morire muori ok si vaffanculo ti venisse una malattia gravissima una malattia terminale vai via medaglia saetta madonna raga quando ho fatto quella roba lì del busto io stavo impazzendo privazione mi hai privato di un leggendario tu e sta cavolo di palestra e parli ancora no aspettate no non so non so neanche i tasti di sto joystick che cazzo vuoi aspetto c'è un tutti insieme no non usciamo tutti insieme no non è necessario che usciamo tutti insieme cos'è che devo fare io devo andare io non ci vado sul tuo percorso infame capito non ci vado sul tuo percorso infame lasciami fare lasciami permettimi di essere garante della mia incolumità mentale raga non ci credo abbiamo perso cioè nello scorso episodio io ci ho messo letteralmente dieci minuti a catturare quella entei e mi è morto per un crit di un ventargentio che tra l'altro che tra l'altro raga adesso che ci penso allora entei è di tipo lotta acqua ma no aspettate no 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 perché adesso io impazzisco ma dov'è ma ventargentio è di tipo ah no questo è vento gelato ci ho provato allora depositiamo entei ragazzi e io direi che possiamo prima del prossimo episodio allora loro due per ora li lascio qui raga perché petilil non ve l'ho detto ma immagino l'abbiate scoperto anche voi si evolve tramite pietra solare quindi noi nel box abbiamo due pokemon di merda uno si evolve con pietra solare l'altro con pietra lunare cioè pokemon sole luna confirmed detto ciò ragazzi ora io direi che se abbiamo abbastanza pokeball cosa che io dubito visto che nello scorso episodio abbiamo catturato entei che c'è morto subito quindi avec the sand of after non l'avrei fatto però dettagli no ok ne abbiamo un pochino di megaball direi ragazzi di andare di andare di andare di andare verso questa parte per fare una cattura giusto per permettere diciamo al noi giocante nel prossimo episodio di avere qualche speranza di vittoria tra l'altro sarebbero due le catture perché ne potrei fare una anche al bosco girandola potrei ragazzi fare una cosa provare a evitare le catture qui e a farla solo al bosco girandola sarebbe un'ottima idea così la cattura in questo percorso la facciamo nel prossimo episodio quindi entriamo qua dentro e vediamo di fare la nostra cattura sono abbastanza convinto che il pokemon nero lui non ci fosse però vabbè ormai in questo episodio devo bestemmiare quindi perché non bestemmiare fino alla fine allora piro lancio calcio in volo no ho sbagliato pokemon si non dovevo mandarlo dovevo mandare quell'altro che aveva le mosse di tipo quello qua giusto esatto entai volevo mandare che è morto comunque l'abbiamo risolto come problema perfetto ho rischiato veramente raga questo episodio penso sia uno dei peggiori video che abbia mai registrato da quando sono nato cioè magari da piccolo sai no registri quei video lì questo è ancora peggio oh cattura oh allora non si evolve però potrebbe tornarci molto utile non si evolve ma potrebbe tornarci molto utile anche change potrebbe tornarci molto utile ergo lo togliamo perché altrimenti ci schiatta in 3 2 1 quindi john frog vai tu vediamo un po' cosa riusciamo a fare contro sto cosmi che già che c'è sfoga energia mi ha voglia di urlare contro il cielo allora john frog ascoltami non non puoi ok grazie grazie apprezzo davvero tanto johnny allora vediamo un attimo di catturarlo che pokeball abbiamo andrei di uno spam ignorantissimo di megaball raga ovviamente per il prossimo episodio troverete berti calenato se nel caso ipotetico e alienante io dovessi catturare questo orso polare lo chiamo tra l'altro bernard c'è già il soprannome raga spero che sia utile e che si e che lo catturi nel mentre a gelamondo sfoga energia e non so se ne ho vista un'altra di mossa tra l'altro poi io non so ovviamente di che tipo di mossa stiamo parlando perché per quanto ne sappiamo potrebbero essere anche di potenza 10 e precisione 200 zio devi entrare devi entrare perché altrimenti ti lancio il disco degli amonarmorf in faccia te lo lancio infatti te lo giuro spacco la facecam tra l'altro l'ho comprato ieri questo raga così just saying ti prego entraci noto che mi hai ascoltato veramente con una magnanimità esasperante ti per piacere io credo in te non so se avete una vaga idea di quante bestemmie caccerò finito sto video forse è meglio che non ce l'abbiate l'idea ti prego entra oh era così difficile figliolo caro allora vediamo il tipo tipo basta ti piace basta ti piace non se ne può più vediamo se qualcuno mi coglie la citazione raga non se ne può più datemi un biju con le otterre sto posto lo esplorerò fuori parti volevo solo fare la mia cattura andiamo a vedere com'è conciato sto pokemon ti prego almeno non so più cosa dire porco due cazzo gli è successo oddio che bello attacco però rintocca sana sfoga energia ombra artigli gelamondo vabbè dai poteva andarci molto peggio poteva anche andarci meglio in realtà ragazzi niente per il prossimo episodio vedrò di allenare Bernard io spero che questo video vi sia piaciuto ho sclerato abbastanza se vi sono piaciuti i miei scleri lasciate un bel like un commento rispondendo come al solito alla domanda del giorno e in generale un commento in generale proprio mi raccomando passate dai social per rimanere sempre aggiornati sull'attività al di fuori del canale penso di aver detto attività in maniera completamente sbagliata ciò nonostante vi invito anche a premere la campanella per ricevere ogni giorno i feed che in questo periodo scarseggiano e tra l'altro è apparso un nuovo bug a caso che i video si fermano a 50 visual ma dettagli e niente ragazzi noi ci becchiamo in un prossimo video